Oggi ragazzi diventeremo dei supereroi! Siamo pronti! Allora, vediamo chi potremmo diventare chi Io sicuramente divento Spider-Man E ovviamente abbiamo delle abilità Quindi potete prendere già subito voi Quello che volete Dai, forza! Vado con Superman Ok Ma non so se questo sia considerabile un... No, non penso Dai, mettiti che ne so Una Superwoman Guarda, c'è Superwoman È molto bella Superwoman Ok Ok, perfetto Adesso, come vedete Abbiamo delle abilità Che noi possiamo utilizzare Ad esempio abbiamo il Super Punch Che lo clicchiamo E come vedete Oddio Travega forte Sto facendo spazio Figo Lo posso diventare piccolissimo poi Vero, poi c'è pure il tasto Per diventare piccolissimi Così che appunto possiamo andare avanti Questo è un hobby E dobbiamo stare attenti A quello che accade Ok Ah, giusto il Super Jump Guarda, Elox già l'ha capito Che figata Aspettami Non andare troppo veloce Oh E adesso X-Ray Oh Questo sì che è figo Che figo Ok Possiamo fermare il tempo Oh Se si è fermato Le petani sono fermate Che figata Che figo Ok Adesso andiamo sopra Attenti quelli dietro Crucco Attento Luca Attento Oddio Erox Oddio Ma come? Ma Erox l'ho visto senza niente di sotto Ok, bene Beh, questo dovrebbe essere semplice Vabbè, sì Questo è facile Ok, bene Ci siamo arrivati Qua pure Oh no, siamo per entrare nella bocca del nostro nemico Oddio Ma lo spacchiamo in due Questo è il suono che ha fatto quando ci ha rigurgitato Non pensavo che le gole fossero fatte così E siamoci dal culo Ok, qua dobbiamo usare questo Il super jump Super jump Ok, ci siamo Poi, da questo lato Guarda Zoe Ma perché si diventa da minuscola? Perché mi piaceva? Luca, non gliene importa niente Lui passa avanti verso le cose rosse Tanto è fortissimo Ma è vero Infatti non ho preso danno Eh sì X-ray Ok Ci siamo Questo è un tunnel Che possiamo guardare dall'alto Così ci aiutiamo Oppure Possiamo usare il super jump Come già lo sta facendo Elox Non ci credo Poi fai così Guarda Torni indietro Riprendi il super jump Salti qua Salti qua Boom E vai sopra Ciao ragazzi Ci vediamo Ma no parole ragazzi Guarda Elox Puoi schipparti direttamente le cose così Non ci abbiamo pensato Bisogna saper usare proprio il super jump Eh vero È vero Ok, ritorniamo piccoli Oppure Vediamo se possiamo anche diventare Usiamo il super jump Infatti O può diventare piccolo Oppure può usare il super jump Ok 1 più 1 2 2 0 per 0 0 0 1 1 1 1 9 9 9 9 più 10 Scusate Scusate Dai ragazzi Time stop Ok Bene Che è diverso Logicamente per ognuno di noi Eh infatti Sì Ti vedo nel nulla Ok Guardate Mi sono attente a questa zona Scacchiata Ok Dai Zoe Sbrigati Elox Aspetta prima di andare Mi raccomando ragazzi Comprate il nuovo fumetto Che è appena uscito Sbrisere il mondo segreto Non potete assolutamente perdervelo Ci siamo tutti quanti noi Dico bene ragazzi Quindi Non potete non perdervelo Ok Bene Shrink Andiamo E ci infiliamo Nelle pozzanghe Guarda che carini che siamo Zoe E poi c'è lui Che è gigante Ma ci fa arrivare Una puzza di fetore Di piedi Incredibile Mamma mia Che schifo E effettivamente L'abbiamo avuto solamente All'inizio Il punch Eh sì Ok Beh qua posso usare Anche il super jump Sì Era più bello Farlo da dentro Ragazzi Sì Vero Forse Ecco Infatti Lo ho fatto prima X-ray Bello Ma è figata La X-ray Cavolo Ma se la tolgo Casco Non ci voglio credere È un po' fake Questa X-ray X-ray E X Faccio apparire I blocchi Mi è saltata E guardate Vedete che alla fine C'è il flight Chissà che Chissà come si sblocca Forse finendo tutto Ah no 500 Robux Per volare Palesemente Finendo tutto Eh sì Sì No ma neanche Secondo me Finendo tutto Secondo me Proprio devi comprare Per forza Sì sì Ok super Io ho fatto La super mossa E il super jump Ho cascato Pure io Finito Ok Adesso Super punch Oh Tranquillo Zoi ti faccio Spessi Sono fortissimo Ah ci sono 70 stage Comunque Mamma mia Sono un po' Ragazzi Dai che ci vuole Sono caduto Dai ragazzi Sbrigiamoci Non possiamo perdere tempo Assolutamente In maniera Siamo un po' Indietro Che siamo caduti Ah cacca Bravi E qua invece Che ci si fa Ma che zona di Ma Zoe Ma dove si è arrivato Hai fatto strike Che strana zona di super potere Comunque che è questo Cioè è uno scivolo A noi non serve Uno scivolo Però è figo Ok X-ray Andiamo avanti Da questo lato Ma dove si è arrivato Dai ragazzi Vedete dove siamo noi Parliamo Ma non c'è Super jump Super jump Super jump Super jump In realtà posso stare Sempre in super jump E io volevo fare String E adesso Perché non c'è la velocità No Oh 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 Cavolo Ehi ragazzi Ma poi a che punto siete No Aspetta Zoe aspetta Guarda Stanno scivolando Guarda Stiamo alla stella Dai aspettiamoli Oddio Aspetta Vero qua possiamo fare Il super jump E possiamo andare avanti E non servono neanche le scale Vedi chi stanno le scale qua Ma a noi non servono Tanto Il super jump Guarda Zoe Ma sbaglio Io ho l'ultimo livello Un cacchio di cesso Ma Guarda lì sopra C'è uno cesso Ma Sì ho notato Sai che è veramente L'ultimo livello Il cesso Ma what the fuck L'ultimo livello Di schifo Direi Sì è vero L'ultimo livello Di schifo Voi Siamo arrivato Voi devi sconfiggere Gli schibi di toilet Con i tuoi super poteri No Ti prego Basta No Mamma mia Che periodo Che è stato quello Mamma mia Si sentiva solamente questo Assurdo Eh beh in realtà Non proprio Però andiamo avanti Ok Allora Siamo al 34 Aspettiamoli Dovevo usare il time stop Che dovevo fare qua Ah vabbè Dai ragazzi Venite Dai ragazzi Che sta arrivando Guarda che figata Ah ma comunque Il potere Te lo toglie Appennati di qua Bisogna prendere il checkpoint No a me non Non me l'ha tolto Il potere Vabbè Ti faccio così Non lo spacco Puoi usare benissimo Solamente il Il tasto quello Cioè il coso Per saltare qua Ma non c'era Bisogno Diciamo Cioè l'unico L'unico potere Che proprio non Puoi fare a meno È la x-ray Altrimenti Quello non riesce a passare Eh sì Esatto Oddio Eh lox dove sei Sono al 37 Ah vabbè Sei dietro di noi Ok bene Ah sono dietro Zoe Sì Vabbè qua Ma qualcosa mi ha spinto fuori Ma mi ha spinto qualcosa fuori Ma che dici Ma io lo sto facendo Senza il potere Ho fatto senza il potere Oddio Sono caschato Eh qua è forza sfida Anche questo lo faccio Senza il potere io Eh vediamo Voglio ben vedere Come lo fa Lo sapevo Lo sapevo Sono più la tizia E come non sei più la tizia No Sei Zoe normale Eh vabbè Sono super Zoe Sono super Zoe Ok Vabbè Qua è semplice Eh lox ma perché sei ancora indietro Tu Eccoci Ah ecco Ah ok no Sembravi un coniglio Invece sei Batman Come mi sembra un coniglio Un Batman Sei Batman Batman Io sono Batman È un Batman Un Batman Un Batman un po' Un Batman un po' strano Molto speciale diciamo Io sono Iron Man Io sono Io sono Iron Man Guardi Guardi Ragazzi siamo a buon punto Siamo a 45 Ma lo finiamo Li finiamo Lo finiamo Lo finiamo È molto semplice in realtà Sì 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 Oh sciavolette Guarda siamo a 45 Bravo Erox Io me lo mi stavo aspettando Eh ragazzi Ma voi dovete essere veloci Eh cioè io veramente Lo sto facendo in 4 e 4 8 Oppure voi dovreste Eh sì 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 Farlo come lo sto facendo io Anche perché dopo un po' Non avevo capito Servisse l'X-Trek Ma porca miseria Ma ragazzi Ma svegliamoci 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 Svegliati Svegliati Cos'è questo Che stai Aia Mi sembra qualcosa Eh E poi qua Super Jump Alcuni video Lì proprio Non hanno senso Cioè Sono stra mega semplici Che così Ti fai in 2 secondi Vabbè questa è l'X-Trek Per forza Io sono a livello 53 Comunque ragazzi Cioè Io 51 Io 82 Io 82 Ma non esiste 82 Sembri tipo Quelli che prendono in giro Tipo Nei commenti di YouTube Che tipo al minuto 30 Cioè che accade qualcosa Ma in realtà il video Dura solamente 10 minuti No vabbè Adesso il time stop Ok così almeno posso fermare Womp 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 Dietro Oddio stavo per crepare Ah ma questo è il Ah perché è il primo mondo Poi ce ne stanno altri Hai capito Ah No so accaduto Will Ah Devo fare la free will Ah Lo so accaduto Spinate la ruota ragazzi Skip Sì Ho fatto Spina la ruota No come che me lo sto chiamando Lightability Non ci credo Ah no niente Non è vero Non ho fatto niente Ma che cacchio Oh perfetto Ah ma Come sei dietro Spitzer Ma vabbè dai Ma io stavo spinnando la will Pure io E poi ho capito Che è una stupidaccia Che è una stupidaccia E ha dato la gravity coil Che saltava lo stesso uguale Però Che figata Cioè voglio avere anche i mantelli Ma a che punto siete voi? 62 Aspettatemi Ma che stai tu? Come Ragazzi Il time stop Non stop Ai blocchi colorati Dallo scomparire Ah È vero Un po' strano È un time stop molto Come si dice? Particolare Particolare Oh cacchio Si è accaduto di nuovo È particolare È particolare Un time stop È particolare Boom È boom Iscray Dai ragazzi Ma non mi è stato aspettando Dai aspettiamola 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 Dai aspettiamola Dai ragazzi Ok aspettiamola a 65 Dai a 65 Ma come fai tu ad avere il mantello Crucco? Eh ho preso i mantelli Come? Ah sì Se sta caps Eh E come lo sblocchi? Spin to un lock free cap Ah Hai spinnato la wheel Ti ha dato il mantello Ah no Click to un lock cape Sopra a destra Puoi sbloccare il mantello Ho sblocato il mantello di roccia Che schifo No vabbè C'è un mantello grigio Fa proprio schifo questo Ah a te sta bene Che cavolo Cioè raga io ho completato 65 stage Ma dato che l'ho sbloccato adesso Mi chiede di completarne altri 20 Come se tipo non avessi completati solo 20 Ma porca miseria A giro Eh vabbè Io non ho preso i due Allora Ecco fatto Aspettate Ma come mi è arrivato Zoe Eh lo so ma io sono indietro adesso Perché sto facendo l'unlock cape Sì sì Tutti scusi Arrivo Siamo al 69 Ragazzi Sì Aspettate prima di buttarvi nel cesso Eh sì ti aspettiamo Ah ok Perché manca il cesso principale Sfirmiamo lì poi Tutti insieme Vero Sfrisetto Non sono cesso Sono bellissimi Ma mamma me l'ha sempre detto Andiamo Sfrisetto Sfrisetto No Sfrisetto Eh io mi sono salvato Anche Erox Di culo proprio Si è salvato Aiuto io continuo a fare Io Aiuto ragazzi Eh niente Va bene Ok Mi raccomando ragazzi Per altre nostre avventure Andate a guardare questi video Per appunto Vederne di più E noi ci mettiamo in un prossimo Noi vi stiamo in video Ciao 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 Ciao